Potevi uccidermi! Dobby non intendeva uccidere. Dobby voleva solo mutilare o ferire gravemente. Come osi togliere la bacchetta a una strega? Come osi sfidare i tuoi padroni? Dobby non ha nessun padrone. Dobby è un elfo libero e Dobby è venuto a salvare Harry Potter e i suoi amici. Hermione, stai bene? Siamo salvi. Siamo tutti salvi. Harry Potter. Dobby. Dobby. No, forza, resisti. Resisti. Ascolta, devi resistere, capito? Noi ti guariremo. Hermione, avrà qualcosa nella tua borsa. Hermione. 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 Lui sta... Aiutami! Un bellissimo posto... Per stare con gli amici. Dobby è felice di stare con il suo amico... Harry Potter. ... asto... Tak... Penso... ... ... Grazie a tutti.